Como casa clima tutto quello che c'è da scoprire sul mondo dell'efficienza energetica delle case in classe a e così via una fiera dove la collaborazione di Climaus è fondamentale per conoscere per sapere tutto quello che c'è da scoprire un appuntamento che è difficile mancare per chi abita in lombardia e magari qualcuno che può spostarsi da poco lontano l'ario fiere e sicuramente l'appuntamento green di questo weekend.